E bella a tutti ragazzi e benvenuti tutti quanti in questo nuovissimo video Allora ragazzi, oggi video veramente delizioso, avete capito bene? Perché siamo su Fortnite nella nuova season, che a me sinceramente sta facendo tantissimo E oggi giocheremo non delle pubbliche, ma delle arene con la signorina Giorgina Eccola qua Tutto a posto? Tutto a posto, bro, vets, bra, voilà, usa Niente ragazzi, questa è la sua entry alquanto ambigua, abbiamo delle vanna via Esclusa questa entry abbastanza particolare Ragazzi, oggi mi sento veramente incredibilmente figa Ma sapete perché? Per la maglietta di Itachi e per questa fantastica pop che mi è arrivata oggi Di Itachi Anbu, spero vivamente che abbiate visto Naruto Anzi, fatemi sapere anche qual è il vostro personaggio di Naruto Scrivetemelo qui sotto nei commenti perché sono curiosa Ma adesso torniamo a noi Con l'arrivo ragazzi della season sono arrivate nuovamente delle armi super super forti Che c'erano un tempo e le hanno finalmente rimesse E il video di oggi sarà principalmente improntato sulla potenza del fucile termico Che a parer mio è una cosa veramente estremamente devastante Fatemi sapere se anche per voi è così Io ragazzi vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni sul mio canale Viola Dalle ore 16 in poi e trovate il canale qui sotto in descrizione E ragazzi se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina E spolliciate questo video a più non posso Ora ragazzi non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito al gameplay Buona visione Buona visione Forse scenderò il benzinaio Io vado qua perché sono una cica malata Ma tu una Ma 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 Porco tu Ma io solo aereo sto trovandoci Anch'io Avevo un AUG Bellissimo AUG poi Oh Dio Oh Dio Oh Demone Ma per caso ti da Sto double movement ti da anche la mira dei paddari Oh I do Minchia distrutto Che No c'è gente lì Ma porco diaz c'è gente dietro Lì sopra Ah si no cazzo Bene me ne vado un po' Ma Tu hai un tastino dell'inventario Cioè che te lo apre e se lo rischiacci lo chiudi O tieni premuto No Lo clicco una volta e rimane aperto Se lo riclicco lo chiudo Oh c'è gente davanti Ah io no Aspetta non voglio sparare Voglio vendere il cannone Lui mi chiedo Ecco perché mi fassero Ah è sul ponte Non voglio sparare Aspetta aspetta Tre volte 31 Avviciniamoci ma Ma non ho colpi Bene Di cosa Quanti ne servono Aspetta quelli che ho Qua sotto Non cado uno Mi muovo tutta strana Ma come cazzo mi muovo strana Sono i nai che Caccato il mio Caccato anche il mio Qua cazzo qua c'è un altro Io non ho pure Merda merda Sono morto amore Sto cercando di guardare a te Sono morto E non ho matto neanche io Non posso farmi Sopato Quanto 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 Sopato Riuscito Non c'è lei più bella Vieni Dovete ho follato Uh c'è pure lui qualcosa Arrivano da qua Lo vedi lo vedi E qua sopra Dov'è Capito Craccato Arrivo È morto È morto Non è morto È one shot però C'è un altro Eccolo qua sotto Ti ha sparato Oddio Distrutto Amore è one shot Vado In volo amore Devi credere Oddio Amore 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 Sì concordo Era un po' bonita No mi sparano da lì dietro Amore è distrutto Quattro volte Renta uno blu Pusciamo quelli di sinistra Affidati Sì arrivo Che pensavo di essere in pubblica Craccato Potrò Potrò cadere Attento 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 Craccato 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 adesso Craccato adesso Ma non occorre Scilla Però è morto Raccionato Morto Alza le mani 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 Banata per no fear Fì di p***a Muori Meno assistenza Non mi rompe il c***o Mammino Tantissimi Dei player Tentuno Oddio sopra la casa 27 a uno 27 all'altro 27 di nuovo Porco dia Madonna Ma Ma ha fatto Scala dorata Hai fatto un edit Che non dovevi fare Secondo me Non l'ho fatto io Non l'ho fatto neanch'io Che edit Scusa No Ma l'ha spazzato loro No 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 Hai editato a triangolo Il mura amore Io? Eh no Mia madre Sfarano solo noi Mi hanno rotto il c***o Mi hanno rotto il c***o Contraattacco Quasi noccato Quasi noccato 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 lì Noccato lì Dovremmo pusharli Sì lo so Però ci sono gli altri Non farò restare Non farò là Sfarà là Tira di me Dov'è? Stata che scendo Si sta tutto in testa Tentuno bianco Morto Ok l'ultimo team Quindi ti ho il culo là Ah no la safe Ok E' GG Tieni tieni Ti metti fatta qua Vai Sì ma Secondo me moriamo Ti dico che è morto Però more Sì ma anche noi Era one shot No Aspetta devo curarmi Era un gelino bianco One shot Eccolo qua Sono senza shield Io Voglio non tirare i due Attenta ma adesso Salgo un attimo Oh like Go like Go like Go like Go like Sennò Anch'io Brava brava Vieni a salire Bravissima Hai shield per me No vero? Sì sì Uno shieldini Vieni qua Volentieri Prendilo eh Occhio di arrivare dietro Salgo 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 Io non vorrei che uno Voglia salire E lato fare cadere 18 Non credo È sceso 48 24 24 48 Craccato Con lo gabinetto blu 12 white Tenturo Tenturo Prendo il pad 29 Cerco le alani Prima io Eh ma No non conviene Vadare Non conviene Vadare Non conviene Vadare Come no? Eh la sepa A sinistra Prendilo blu Ti sta tutto In testa Merda Sto rotando io? Ho fatto male Io non ho shield Che accado anche l'altro Builda Sei mazzi Builda tua Sì sto buildando Knockado Bravissima Knockado Wow Mamma mia Il termico Come scopa Il termico Il termico Che goduria Che goduria Easy Termico fortissimo ragazzi Nuova arma Proprio per scelta Da Martina Troppo bella Troppo forte Bene ragazzi Eccoci qua Siamo arrivati Alla fine di questo video Come avete visto Abbiamo fatto una vittoria In arena Veramente assurda E ragazzi L'avete visto voi stessi Con il termico Abbiamo fatto dei danni Veramente Fuori Fuori Di testa Come sempre ragazzi Il video vi è piaciuto Mi raccomando Supportatemi con un bel pollicione In su E se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Quindi ragazzi Adesso io e il mio carissimo amico Itachi Vi salutiamo Noi ci becchiamo in un prossimo video Grazie